E' già stato il nostro ospite, qui ha detto fatto, lui è un attore, un farmacista, un esperto di fitoterapia, Renato Laimo! Eccoci, bentornato Renato, che piacere! E' piacere, lei è la signorina? Viviana. Viviana, Viviana. Allora Renato, noi devo dire che siamo rimasti molto incuriositi l'ultima volta che sei stato qui dalla tua attività, insomma, dalla tua attività parallela a quella dell'attore, ovvero quella della fitoterapia. Questa piccola indicazione di come si prepara un detergente naturale a casa, con i fiocchi d'avena, quelli che abbiamo nel nostro... Ma quelli che mangiamo a colazione. Esatto, Bianca, quello che hai nella dispensa. Possiamo fare degli impacchi sulla zona interessata, prendendo una garza sterile e andando a mettere sulla parte interessata l'impacco, facendolo stare dieci minuti, due o tre volte al giorno. Allora, quindi, per ottenere questa... Io ti posso fare i complimenti, sei stato un tutor eccezionale. Grazie. Non hai sbagliato niente? Mi sembra che lo fai l'altro. Non stai, Renato? Grazie per essere tornato. Grazie. In questo caso, in veste di farmacista, anzi anche di esperto in fitoterapia. Però non capisco perché tu sei tanto... E' ottimo, ragazzi. Aspetta che facciamo fare compagnia anche a Bianca? Io devo andare, ragazzi. Fate pure un drink voi due insieme, tutto là di salute. Grazie, Renato Raimo. Io devo tornare insieme. Lui non mi fa capire... Ma come? Scusa, Renato. È lui che non mi fa capire più niente. Mi confonde le idee, mi confonde la testa, il cuore e tutto. Quindi toglie tutta l'ansia del pre-natale. E me lo potevi dire prima? Che me la prendevo da settembre, l'antiangoscia. In più, Bianca, anche questa può diventare un bel momento per regalare un qualcosa di personalizzato. Guarda, la tua tisana... Quindi tu hai creato l'infuso? Esatto, l'infuso che oggi sto consigliando con un'etichetta fatta in casa e col tappo dorato che richiamo a Natale. Insieme alla Palla Relax diventa un ottimo regalo che fai da te. Farebbe molto gradito da parte mia. Te la regalo, te la regalo. E adesso... Vogliamo fare un brindisi? Assolutamente, Bianca. Al nostro uso? Attenta che scotta. Vai. Però immagina, ti chiudi gli occhi, sei nella tua vasca, Bomba Relax. Allora, abbassiamo le luci, Egidio, se possibile. Siamo nella nostra vasca da bagno, con tutte le candele accese, la musica di Natale in sottofondo. Questa meravigliosa tisana rilassante sulle nostre mani. E a questo punto vi auguriamo un Natale felice, sereno e rilassato. Grazie a tutti.